C'è una partita abbastanza stimolante perché non so se per fortuna o sfortuna andiamo a giocare contro una squadra che è nel momento migliore da quando è iniziato il campionato. Ha vinto tre partite consecutive, dopo tanti alti e bassi sembra aver trovato una buona stabilità nelle rotazioni, nei giocatori, nella qualità del gioco. Ha vinto una partita importante contro Torino, sono riusciti a andare a vincere a Varese, hanno vinto in casa contro Pistoia. Una squadra che indiscutibilmente ha tanti giocatori di alta qualità che sono stati dei pezzi molto pregiati del mercato. Chiaramente parliamo di Alessandro Gentile, di Pietro Radori, poi c'è Stefano Gentile, Lafayette, Slotter, insomma tanti giocatori, giocano tutti e dieci. È una squadra con delle caratteristiche abbastanza inusuali che si vedono nella paracanestro italiana, c'è che gioca con un quintetto altissimo, molto 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 grandi, quindi giocano con Pietro Radori che nel 2 lui può giocare sia a guardia che alla piccola ma gioca a guardia, con Alessandro Gentile che fa il 3, quindi si alzano tantissimo, con due numeri 4 come Baldi Rossi che può fare nella sua carriera sia il 4 che il 5, un po' atipico invece di giocare a 4 con Slotter nel 5. Veramente con una taglia fisica molto molto importante, sono molto alti, sono molto grossi, sfruttano di conseguenza tanti giochi d'attacco per andare in post basso, tante situazioni dove possono usare questi mismatch contro le squadre avversarie. Ha una panchina lunga, vengono da un momento di fiducia, la partita per loro ha un'importanza notevole perché in queste ultime due giornate ci si gioca l'entrata del Final 8 e insomma ci apprestiamo a fare una partita contro una squadra dalle grandi individualità e che adesso sta trovando un equilibrio molto forte e tre risultati consecutivi che hanno tolto un po' questa criticità nei loro confronti. Erano partiti come una squadra che doveva probabilmente dominare il campionato, hanno avuto dei problemi iniziali, adesso hanno trovato la giusta via, speriamo noi di essere bravi di fare una partita di grande solidità e soprattutto contrastare queste caratteristiche che per la prima volta forse incontriamo in maniera così chiara. Sì, noi stiamo trovando equilibrio anche se ti dico la verità, con l'entrata di Wells dobbiamo ancora ritrovarlo pienamente, diciamo che l'abbiamo trovato fino a prima di Sassari, adesso Wells è rientrato e di cui ne sono contentissimo, è mica che è un lamento, ci mancherebbe altro, però vanno ritrovate altri equilibri sulla gestione soprattutto dei sei esterni perché è chiaro che quando tu ruoti tutti i cinque esterni, solo cinque esterni, bene o male li fai tutti i contenti, i quattro lunghi fanno storia a sé nella rotazione, a me piacerebbe, la mia idea è quella, insomma sono molto portato a non mettere Dercole ancora come sesto esterno e quindi utilizzarlo pochissimo oppure non utilizzarlo per andare con gli altri ma cercare di utilizzarli tutti e sei, non so se è una roba qualcosa di fattibile, di reale, però sicuramente ci impegneremo nel farlo, quindi sono degli equilibri ancora che stanno arrivando. Questo punto di vista prettamente della squadra, poi sono abbastanza contento sui progressi che stiamo facendo difensivamente parlando e di testa, proprio abbiamo fatto un particolare video fatto su tutti i pick and roll difensivi, su tutte le situazioni e devo dire la verità che c'è grande applicazione, stiamo anche facendo molto bene e speriamo di riuscire a mantenere queste regole senza magari cambiare tanto rispetto agli avversari, un po' come abbiamo fatto poi negli ultimi 15 minuti della partita con Sassari, dove secondo me siamo stati veramente molto bravi a fare queste cose, poi dopo abbiamo fatto altri errori, però su questo sono stato contento. L'inizio degli esterni può dipendere anche dalle caratteristiche tecniche e fisiche degli avversari, insomma, cercare di adattarsi a quello che vuole... Sì, 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 però ecco mi piacerebbe che perlomeno le situazioni base, sto vedendo che le stiamo solidificando abbastanza con il nostro lavoro.